Amici di MarciGames, bentornati su Golf. Oggi faremo il video di TheJoeGamer, grazie Joe, continuate a consigliarci nuovi video, nuove sfide da fare nei commenti, ragazzi mi raccomando, ci dice fate Golf ma con i punti della Formula 1 e anche col giro veloce. L'ho interpretato così, siccome siamo solo io e Loco, il primo prende 25 punti, il secondo 18 punti e il giro veloce prende 1 punto. Come si fa ad arrivare primo? Beh, il primo che come tempo arriva primo, se io faccio 10 colpi ma arrivo prima di Loco, vinco i 25 punti perché arrivo primo, ma il giro veloce si fa facendo sia meno colpi sia arrivando primo, quindi sarà interessante questa cosa. Quindi se uno arriva secondo, il giro veloce diciamo che lo fa, quello che ha fatto comunque meno colpi, oppure non lo prende, anzi lo facciamo così, non lo prende nessuno il giro veloce Loco, deve arrivare primo con meno colpi dell'avversario per fare anche il giro veloce. Quindi possiamo iniziare, la mappa dovrebbe essere difficult, c'è scritto chill but difficult, quindi in teoria è molto difficile, però ma se c'è un problema, è ancora disperso, è ancora disperso, sì ragazzi. Ragazzi la polizia di Barcellona lo sta cercando ovunque, l'unico è Barcellona, non sappiamo dov'è, l'hanno rapito secondo me. Purtroppo non sappiamo dov'è e questa cosa ci preoccupa un pochettino perché effettivamente non risponde le messaggi, non risponde le chiamate, boh, non sappiamo dove sia. Non sappiamo dove sia ragazzi, quindi fateci sapere, ma c'è scritto SUS, guarda il centro, SUS. È vero, SUS, c'è scritto. Per la prima volta diamo il via noi, ok? Alla seconda mappa appena si carica si va. Va benissimo. Quindi 3, 2, 1, via. Ok. Dove no, sono bloccato. No, sono stato indietro. Ok. Dai mi faccio il giro veloce subito. No, 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 veloce, veloce. 4 colpi, tu? Sì, sì, sì. No, 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 non è il giro veloce. Eh sì, primo, ah no, ok, non lo contiamo. Quanto pare? 25 a 18. Aspetta, devo aspettare, non partire un secondo. Devo ricordarmi che dobbiamo segnare. Come facciamo a segnare le cose? Oddio, ma ci vuole troppo tempo. Quindi ogni volta ci diamo il via. Sì, ma fai la vittoria, poi facciamo, insomma, fine. Ah, giusto, ok, segno, ok, segno. Allora, aspetta, marci, blocco, primo, e se c'è il giro veloce metto una V di fianco. Primo, secondo. Vamos, 3, 2, 1, vai. Fatto col giro veloce! Giro veloce, sì, giro veloce, ragazzi. Eh, mi sono, mi sono perso, mi sono perso. Ora possiamo iniziare subito, eh. Ok, che ansia, donno. Non so dove stavo andando, però va bene. Ok. Ok. No, mi sono bloccato nei fiori. Oddio! Fatto prima te. Porca misera, non ci posso credere. Mi è fatto tutto. Primo, secondo. Questa sta veramente nascurata e esagerata, marcamale. Che cantissimo. Ok, bene. Dov'è la bucata? Ok. No, sei davanti a me, Marci. Mi hai bloccato, mi hai bloccato. Prego, entra, entra, entra. Mamma mia, cosa sono? Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Primo con giro veloce. Vabbè, raga, Loco ci sta schiantando, eh. Eh, certo. Ci sei distruggito. Mi chiamavano setta me qui all'asilo. No, Loco, sono in un'altra mappa. Come su un'altra mappa? Vabbè, se riuscire a farlo comunque, punto. No, no, no. No, no. Sono qui, inizio, Marci, tranquillo, non preoccuparti. Dai, ma non riesco a passare. Primo con cinque cosi, quindi non sappiamo se abbiamo giro veloce. Sì, giro. Oh, aspetta, invece forse no. Forse posso ancora farcela. No, che sfiga, ma l'avessi messo. Eh sì, senza giro veloce. Porca paletta. Mannaggia. Eh, però siamo più o meno lì. Siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ok, vamos. Don Carico, questa è difficile precisione. No. Su. Che fortuna. Prima. È stato a caso. Prima giro. Eh, sì, è a caso. Letteralmente, è inutile dire qua. Ho prontato a guardare al volo, perché devi guardare. Deve essere riuscita a guardare un po' dove è la buca finale. Tu, 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 tu. Levati dalla mia pista. Tu, 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 tu. Sono uscito. Mamma, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Primo e giro veloce. Stavo entrando. Primo e giro veloce. Incredibile, ragazzi. Ormai è fatta da tranquillo. Ti conviene fatta da tranquillo. Ah, sì, esatto. È inutile, perché se poi finisci i colpi, che sono otto, è la fine. C'è appena l'età? Eh, sì, beh, sì. Se non finisci, direi, almeno... Eh, cavolo, se non è arrivato, sarebbe. Non l'ho preventivata questa cosa. No, almeno 18, ma non mettiamo niente. Mettiamo meno 5 punti se non arrivi, dai. Va bene, va bene. Ok. Tu, 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 tu. Loco, lo, chis. Entra! Entra! Cioè, non ci credo, che fortuna! Eh, io per non beccarti, perché sennò ti beccavo. Doveva beccarti, ti dovevo mandare via. Ho sbagliato. Eh, secondo me sì. Troppo leale, troppo leale il nostro Marci qua, eh. Ok, mi sono bloccato benissimo. Insomma, non si è beccato proprio... Eh, più o meno. Dai, che fortuna! Mamma mia! Prima, ciro veloce! Mi sono beccato sto neggio in testa! Mamma mia, ragazzi! Che hit clamorosa! Che hit clamorosa! Ok. Ogni volta... Non vedo, non vedo. Bum! Eh, è stato più bravo di me. No, però sto rotolando! Come faccio io? Non posso fare niente. Come devo fare qua? Non... Cosa dovrei fare qua, scusami? Devi saldito nel dito... Eh, porca paletta, ragazzi. Non l'ho guardato. Non l'ho guardato io. Eh, sei stato sfortunato qua. Eh, sì. Sì, sì. Prima... Te lo scrivo subito, così dopo siamo pronti. Primo giro veloce e secondo. Mamma mia. Così dopo sei pronto subito a partire, eh? Arriva, c'è la buca, dai! Eccoci. Sei colpi, ragazzi. Pronti. Partenza. Buca 11. Vediamo un po' com'è. Vediamo com'è la situazione. Dritto! Oh, c'era un portale! Non so se era bello o brutto. Infatti lo prendo io adesso. Tu provi a prenderlo sicuro? Eh, ragazzi. Come cavolo hai fatto a prendere il portale? Sì! Prima giro veloce! Mamma mia! Come hai fatto a prenderlo? Eh, mi sono fermato là sopra, ho tirato dritto e ho beccato il coso. Che da... Prima sfortuna e adesso fortuna. Raga, ricordatevi di commentare con un nuovo video di golf, mi raccomando, perché io prendo sempre le vostre idee. Oddio. Qua forse non ho fatto la cosa migliore. Io sono messo bene, forse, però mi devo fermare. Frena, frena. Sì! No, no, no! Sì! Sì! Primo senza giro veloce! Forca paletta, no, hai quattro colpi. Ho fatto bene qua io, eh. No, no, ma perché sono stupido? Hai vinto. Aspetta, Natto, che qua mi sono fermato. Hai già vinto! Ma se mi sono fermato, loco! Ma se sono uscito! Eh, ma io sono fermo qua. Eh, io sono ancora bloccato. Yes! Primo giro veloce. Eh, mi sa che raga, qua non c'è neanche da contare, eh. Non è vero, non è vero in realtà, loco. So, guarda, adesso siamo... Quanti si è messo? Siamo più... Eh, non far buca. Non fare buca. Io ho... Uno, due, tre, quattro, tre, otto primi, tu ne hai uno, quattro, cinque. Non sei così distante. Vai. Devo rifare. Mamma mia, ragazzi. Devo prendere la forza di sette me queen. Io sono in ansia. Bene. Due idioti siamo, due idioti. Due cretini, veramente cretini stupidi. No, frena. Qua era meglio frenare. Io ho frenato. No, è difficile Marci qua per entrare. No, fermati. Non ci credo. Non ci credo. Ma ci hai... Ho buttato l'occasione. No, ma perché? Cos'hai fatto? Ho buttato anche l'occasione, mi sa. Sì. Ma non ci credo. I sei. Ma perché te entra? I sei. Prima e gira veloce. E si vola. Mamma mia. Che emozione, ragazzi. Odio sto gioco. Fa cagare. Eccoci qua. Qui sono andato un po' troppo... Ma guarda, sono bloccato qui. Sei uscito anche te? No, però avevo bloccato. Anch'io tranquillo. Niente su in acqua. Ma ci ho beccato, scusami. Sono spulato avanti a te. Ma dai. E fai buca dritto, mamma... Mamma mia, cosa? Ma cosa ho visto? Cosa ho visto? Loco, primo giro veloce. Primo giro veloce. Attenzione. Mancano solo tre. Concorri e battere situazione. Dove ha una buca? E salta come non so cosa, dai. Entra, entra. Fermati. No, non ci credo. Primo giro veloce. Ho missato il colpo. Quanto colpo. Ho missato il colpo, eh. Letteralmente. L'ultimi due. Che ansia. Ti ho dato il boost, Marci. No, sono uscito. Hai vinto. Aspetta un attimo, loco. Guarda che qua non è ancora finito. Hai vinto, hai vinto. Basta che fai un colpo fatto bene. E dove è fatto bene? Primo giro veloce. Guarda, tu sei entrato dritto. Primo giro veloce. Primo giro veloce, ragazzi. Dopo li contiamo tutti, facciamo tutti i calcoli. Vi diciamo proprio chi ha vinto alla fin fine. Mamma mia. Te la giochi con l'ultima? Dai, l'ultima... Come si? Almeno per la gloria. Per la gloria. Non è detto che hai vinto secondo me. Sì, sì, ho vinto. Adesso sto di dietro! Ma come sei tornato indietro? Mi hai fatto tornare indietro! Eh, anche io sono in difficoltà, loco. Aspetta, entri dritto subito te. Ma come si fa qua? Fatto! Attenzione, primo con giro veloce. Tu, 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 tu. Marci, voglio risultati! Adesso andiamo, adesso andiamo, con calma. Allora, secondo e giro veloce. Allora, contiamo. Marci ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 primi. Oddio, pari! 9 primi. Non pari, Marci? Allora, aspetta, no. I primi giri veloci ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Più 7 veloci. Tu hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perché 8? Vuol dire che abbiamo un primo. È impossibile. Cioè, sono su 18 buche. Ah no, io ne ho 10. Ho 10 primi. Ho 10 primi più 7 giri veloci. Invece Loco ha 8 primi più 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri veloci. Quindi io ho 8 secondi e Loco ha 10 secondi. Vediamo un attimino il calcolo finale, ragazzi. Ragazzi, il punteggio finale di fine campionato è Marci con 401 punti e Loco, secondo, con 386 punti. Amici, noi ci vediamo in un prossimo video. Da Marci è tutto. Ciao. Scrivete il vostro pilota preferito sotto nei commenti.